Amici telesmondiani bentornati! Ragazzi, grande evento Est-Ovest 5 organizzato dal grande Engin Terzi Impressionante, incontri ragazzi eccezionali, Larrat, Stronka, Pudrnik, Hermes Gasparini Distrugge totalmente Dave Cefi, ragazzi, era quotato come secondo a livello mondiale Adesso, adesso Hermes Gasparini ci fa sognare e ragazzi molto probabilmente lotterà contro il grande Levan Amici, poi c'erano anche ospiti come Cip Lengov, Levan stesso Ci sono stati incontri particolari, Prokopciuc, ragazzi, campione mondiale Poi c'era pure Cobra, John Brezenk, John Brezenk che ha vinto Ragazzi, ci sono dei match spettacolari, li potete vedere, in descrizione vi metto il link Per poter vedere l'intero incontro Pagate, pagate ragazzi, la Core Sport è giusto che si paga per aiutare gli atleti Per aiutare gli organizzatori, per cercare di far crescere sempre di più il nostro sport Vi metto il link in descrizione, mi raccomando ragazzi, fate il pagamento Vi sbloccheranno la Core Sport e vi manderanno i video completi dell'intero evento Dite che siete di telesmunto È giusto che sia così, è giusto che sia così Ragazzi, mi raccomando Cercate di condividere pure il nostro blog luigiladelfa.it Iscrivetevi agli altri canali che gestiamo noi Arm Wrestling Show Poi, ragazzi, sulla pagina Facebook pure Di telesmunto È sportiva, quella di Arm Wrestling Gran Canaria Se venite, ragazzi, in Gran Canaria Chiamatemi Chiamatemi Oltre a farci un giro insieme Andarci a bere un caffè insieme Andiamo pure a fare un allenamento di braccio di ferro Vi aspetto Vediamo se mi batti Vediamo se mi batti Ragazzi, il braccio cresce sempre di più Mi sento sempre più potente Mi sento sempre più potente Issa, Issa Ti strong, ti strong Arrivederci